sono le nove cinque vedo collegati adriana e amilcare che salutiamo c'è anche ci sono anche degli amici che ci salutano da firenze e quindi direi che possiamo iniziare lascio a te la parola alessandro che appunto ti potrai presentare presentare le iniziative che oggi condividi con noi grazie grazie moltissime mi chiamo alessandro capuzzo sono di trieste ondeggio un pochino logisticamente fra trieste e palermo anche per motivi familiari e faccio parte del comitato pace convivenza e solidarietà danilo dolci di trieste e quindi insomma sono chiaramente un seguace del lavoro di danilo che essendo nato nella nostra città in altipiano nel carso a pochissimi chilometri dal centro cittadino condivide condivide con noi la la sua diciamo essenza di provenienza ecco noi dalle nostre parti leggiamo la sua nascita e il suo primo periodo di infanzia così in in un modo un po particolare perché lo caliamo nella realtà locale e che è piuttosto particolare essendo una città mista una città di confine una città che ha vissuto una storia molto molto personale particolare ecco comunque il senso dell'intervento che ringrazio per poter svolgere qui nel webinar questa sera è sostanzialmente semplicemente una proposta e ho sentito in un webinar precedente la proposta che è stata fatta da alessandro marescotti insieme con il colloquio con daniele novara peraltro anche lui un seguace di danilo dolci e pedagogo come lui che hanno tratteggiato assieme l'ipotesi di lanciare un coordinamento educativo un coordinamento col nome molto avvincente di super pace questa cosa mi ha lasciato una traccia nel senso di aver pensato a come collegare le cose che porto avanti personalmente con questa possibile direttiva e mi è venuto in mente che l'amico olivier turche di firenze umanista che gestisce anche insieme ad altri l'agenzia di stampa presenza sta organizzando per i primissimi giorni di giugno guarda caso anche in occasione della festa della repubblica un festival del libro per la pace e la non violenza una prima edizione che si doveva tenere un anno fa con la scorsa estate proprio a taranto ma che per vari motivi pandemia compresa non è stata possibile da realizzare in quel momento e stavolta viene realizzata in quel periodo ai primi di giugno a roma al quartiere san lorenzo un quartiere insomma che ha una storia del tutto particolare a roma quartiere di cultura e di università ecco e mi è venuto in mente proprio di anche dopo aver letto l'articolo di laura tussi sull'incontro con daniele novara mi è venuto in mente di insomma c'è anche una cosa in un aneddoto da dire sono sicuro che i figli di danilo specialmente chiara sarà molto contenta di sentire questo danilo dolci riusciva a sopravvivere alla mafia pur essendo stato l'iniziatore della lotta non violenta al principio mafioso riusciva a sopravvivere perché perché oltre a essere stato spesso in galera al lucerdone proprio i figli dei mafiosi andavano a scuola da lui a mirto a partinico alla all'esperienza educativa che danilo aveva costruito insieme ad altri al al mirto di partinico una scuola che poi è divenuta un istituto comprensivo statale ecco ricordo che chiara mi raccontava della paura che aveva la mattina quando andava a portare il panino a danilo la merenda e temeva di vederlo per terra bocconi perché in quel periodo e anche un po prima la situazione di mafia da quelle parti era questa il padre di giuseppe casarrubea per dirne una è finito ammazzato era un sindacalista proprio partinico giuseppe che poi ha collaborato con danilo e ha diretto la scuola di mirto proprio ecco detto questo come dicevo prima ho proposto ad olivier che sicuramente d'accordo di promuovere in occasione del prossimo eirene festival questo è il nome che hanno dato al festival del libro per la pace la non violenza che si terrà in giugno a roma una iniziativa che prenda le mosse da danilo dolci che è stato il pacifista italiano più noto all'estero con la quale riprendere appunto come accennavo prima l'idea di super pace in quella sede e dedicare la circostanza al lavoro pedagogico di danilo dolci che si è laureato onoris causa a bologna proprio in pedagogia proprio in quella bologna che sta e da insomma è la culla della pedagogia attuale ed essendo ed è una cattedra notta in tutta europa insomma sarebbe possibile questa prospettiva temporale dare un costruire una proposta che parta idealmente fin dal borgo di dio di trappeto il paesino dove danilo dolci è andato a lavorare contro la miseria che si trovava in quella zona nella sicilia occidentale ai primi ai primissimi anni cinquanta periodo in cui la costituzione era appena stata approvata aprendo da quella da quella situazione la visione la visione fino all'oggi in relazione si con la sicilia dove danilo operato ma anche con trieste dove è nato per esempio potrei fornire un contributo in questo senso gli spunti non mancano la lotta alla mafia per quanto riguarda specialmente la sicilia e alla sottosviluppo e la lotta al nazionalismo per quanto riguarda trieste che è stata la nostra mafia il nazionalismo che è degenerato in fascismo aperto è stata la mafia che ha lavorato nella zona di trieste per svariati decenni costruendo le condizioni per l'invasione armata della jugoslavia e tutto questo ha portato poi a quello che è il fenomeno più conosciuto oggi ma ampiamente sopravvalutato in confronto a quanto abbiamo fatto noi in jugoslavia che è quello delle foibe so che questa è una cosa pesante da dire ma va detta perché chi conosce le cose e sa che le storie sono state studiate e verificate non può mettere sullo stesso piano le due cose sono cose profondamente differenti noi abbiamo invaso un paese senza nemmeno dichiarazione di guerra siamo stati causa di centinaia di migliaia di morti in quel paese e nella zona più vicina a noi c'è la slovenia e la croazia più ancora che nelle altre zone quindi è normale purtroppo pensare che ci possa essere uno spirito di rivalsa e tutto questo andrebbe contestualizzato ecco che questo il il problema principale che abbiamo ancora da risolvere e dalle parti nostre a trieste e dintorni sui confini perché sono due anzi tre i confini di trieste con slovenia con croazia e con austria dove l'eredità va ancora la prima guerra mondiale ma chiudiamo adesso questo discorso che è solo una parentesi dunque si potrebbero in questo incontro invitare i figli di danilo dolci penso ad amico a chiara a libera vediamo se è possibile come che vivono a palermo dintorni tranne daniela che vive altrove mentre io appunto come accennavo potrei spiegare il contesto fra italia slovenia dove danilo è nato e che lo ha formato e l'antifascismo in particolare la prospettiva potrebbe essere quella di coinvolgere le tante città questo ovviamente nell'idea di super pace di coinvolgere le tante città che hanno partecipato alla seconda marcia mondiale per la pace e la non violenza iniziativa che abbiamo dovuto ridimensionare perché è arrivata proprio all'inizio della pandemia nel fine si la marcia è entrata in italia dalla slovenia proprio alla fine di febbraio del 2020 dunque fatemi ricapitolare un attimo sì queste città saranno nuovamente attive per la terza marcia che avrà luogo dal 2024 al 2025 e il cui percorso deve essere ancora tratteggiato fra l'altro lì al festival del libro per la pace e la non violenza dovrebbe, se ricordo bene, essere presentato anche il libro della seconda marcia mondiale per inciso sarebbe, secondo me, interessante collegare a questo discorso anche un argomento che apparentemente può essere molto diverso ma che in realtà ha un'affinità di fondo cioè l'idea di Alberto Labate altro grande maestro anche del sottoscritto di un centro di formazione per i corpi civili di pace perché super pace penso sia un contesto una cornice che può tenere dentro questo ed è sempre educazione alla pace Alberto l'aveva inquadrata in un convegno internazionale che si tenne a Vicenza una decina d'anni fa al quale partecipò anche Johann Galtung un convegno molto riuscito che pose le basi per la realizzazione di questo centro di formazione che però non si è mai realizzato finora anche perché l'attenzione nella città di Vicenza per le tematiche della pace dopo le grandi mobilitazioni di quegli anni contro il raddoppio della base Ederle al Dalmolin all'aeroporto Dalmolin è venuto a meno progressivamente e quindi sì, si sta lavorando ancora sulla creazione del parco della pace a Vicenza ci sono ancora mobilitazioni su alcune cose ma questa idea non ha avuto seguito concretamente e sarebbe secondo me necessario riprenderla e cercare di portarla a realizzazione perché è una cosa di estrema importanza un'intuizione che ebbe Alberto e che fa fra l'altro parte anche del programma generale della rete pace e disarmo attualmente come idea e anche come proposta di legge mi ricordo Alberto, fra l'altro aveva collaborato con Danilo Dolci a Palermo a Cortile Cascino nella zona più degradata di Palermo dell'epoca un posto veramente squallido che poi è stato demolito come luogo fisico e modernizzato non esiste più ma si ricorda e ci sono pubblicazioni su questo anche lavorò Alberto in quel posto insieme con Goffredo Fofi Alberto, fra l'altro da Danilo ha ripreso e ha maturato il concetto tipico di ricerca-azione che ha informato tutto il suo lavoro per tutta la vita potremmo pensare di coinvolgere Alessandra, Irene, Labate e la loro mamma Anna, Leonardi come pure Carla Biavati che è stata la principale collaboratrice di Alberto ed è tuttora presidente di Ipri Rete CCP Rete Corpi Civili di Pace dovrebbe poter essere presente a Roma anche Silvano Caveggion di Vicenza che è un docente ed un pacifista che ha organizzato insieme a Matteo Soccio ed altre persone il convegno promosso da Alberto Labate a Vicenza e che fa parte anche del team della Marcia Mondiale per la Pace quindi la proposta sarebbe fattibile ecco la lancio anche qui in occasione del webinar spero di trovare altre persone interessate fra quelle che ho nominato e fra altre ancora la possibilità di realizzare la cosa c'è è concreta e quindi vediamo se è possibile realizzarla il giorno adatto sarebbe secondo le istruzioni datemi da Olivier la mattina di domenica 5 giugno quando si fa nell'ambito del festival la commemorazione delle persone illustri della non violenza ecco mi fermo qua e vi ringrazio moltissimo per questa opportunità Alessandro se c'è qualcuno che ti ascolta dalle tue parti e vuole entrare in contatto con te c'è un riferimento di una posta elettronica un sito web o qualcosa per entrare in contatto con te? ma la mia posta elettronica senza altro la posso postare nella chat nella chat di youtube però se tu la metti nella chat qui poi io la inoltre su youtube e magari perché sono aperto su meet va bene va benissimo su gente io inoltre il link va bene ti ringrazio vediamo se nel frattempo è arrivata qualche domanda ci salutano Elio da Varese Francesca da Piacenza Alessandra e Carlo non vedo domande quindi recupero dalla nostra chat però non vedo la tua email se puoi mettere i tuoi riferimenti sulla chat di Gizzi sto scrivendo eccoci in questo modo c'è la possibilità di contattarti per l'iniziativa che ci hai spiegato che si inserisce nel nel progetto Superpace che è appunto questa rete di persone e di strumenti per per l'educazione alla pace che di cui potete approfondire i dettagli andando negli archivi del nostro canale youtube nel frattempo c'è una domanda per te Alessandro c'è Emanuela che chiede se puoi dare alcuni dettagli sul concetto di ricerca azione in estremissima sintesi anche perché non saprei andare molto oltre cioè il programma di lavoro di un di uno scienziato come Alberto Labate è stato quello di come dire di abbinare sempre per principio proprio per pratica quotidiana il pensiero teorico con l'azione concreta proprio è un concetto di una semplicità disarmante cioè non è valido elucubrare enormi teorie anche le più valide al mondo se non sono collegate con la quotidianità del concreto e allora Alberto come Danilo e come altri hanno lavorato portando avanti sulla base di questo principio un continuo collegamento operativo fra teoria e pratica e l'hanno intitolato così ricerca slash barra azione per tenere permanentemente in contatto questi due piani spero di essere stato sufficiente benissimo ti ringrazio molto Alessandro e è bello vedere che da questi webinar si stanno cominciando a creare delle reti a tessere dei fili perché un po' la sensazione di chi fa di chi cerca di promuovere la cultura di pace e della non violenza è quella di essere isolati in mezzo al mare mentre invece in queste settimane abbiamo visto che c'è un movimento carsico di persone di formiche che operano per educazione alla pace e alla non violenza adesso chiedo ad Alessandro Marescotti se vuole passare lui al prossimo punto della ferata di stasera oppure se preferisce che inizio io forse è meglio che inizi tu perché la tua è una relazione piena di speranza invece ed è sull'agenda della pace io dovrò parlare dell'agenda della guerra quindi teniamola alla fine la parte amara benissimo allora adesso attivo le mie slide condivido il mio schermo però prima recupero recupero la finestra di youtube eccoci qua colgo l'occasione per dire che l'indirizzo di superpace è www.pisting.it slash superpace c'è la presentazione c'è la possibilità di aderire a questa rete benissimo allora stasera metto insieme quella che ho chiamato l'agenda politica del pacifismo che non è un manifesto organico di un movimento pacifista unitario ma è una mia personale raccolta di quelle che io ritengo essere le proposte l'orizzonte politico più concreto che ci offre non da oggi ma vedremo dagli anni settanta la cultura della pace della non violenza della solidarietà e della cooperazione internazionale questo anche per fornire informazioni a compensazione di uno stereotipo che è quello che emerge sui mezzi di informazione e cioè del pacifista idealista anima bella che non vuole affrontare le situazioni nell'unico modo possibile secondo loro che è la guerra e che quindi essendo pacifista diventa ignavo diventa pacifismo diventa sinonimo di resa di connivenza con il nemico di pensiero astratto che non riesce a trasformarsi in azione concreta come avrò modo di spiegare per quanto mi riguarda è l'esatto contrario ma prima voglio partire con una questione di metodo un approccio al problema della della guerra in generale e della situazione in Ucraina in particolare che è un approccio che ho raccolto proprio ieri da un commento lasciato sui social network dall'associazione Papa Giovanni XXIII che ha una lunga storia di intervento civile in zone di conflitto erano della Papa Giovanni XXIII i primi obiettori di coscienza che hanno disertato per andare oltre i confini italiani non a imboscarsi ma a fare servizio civile nella ex Jugoslavia per affermare l'idea di una solidarietà internazionale l'idea di una difesa della patria che così come il concetto di difesa militare si è esteso al fatto che non devi difendere solo i confini ma devi andare dovresti secondo loro andare con le armi a difendere gli interessi e lo stile di vita della tua nazione ovunque minacciato e compromesso così parallelamente si è avuto un'estensione del concetto di difesa civile non armata e non violenta che comprende anche la solidarietà internazionale come intervento preventivo per evitare che in un mondo interconnesso le conseguenze dei conflitti nei Balcani ricadano prima o poi inevitabilmente su di te successivamente nell'estate del 2000 questa volta è toccato a me fare l'obiettore di coscienza per la Papa Giovanni XXIII e al termine del mio servizio civile ho avuto modo di entrare in Cecenia e a Grozny osservando le conseguenze dei bombardamenti di Putin c'è una condanna della Corte Europea per i diritti umani del 2004 per appunto bombardamenti su colonne di profughi in fuga in fuga dalla Cecenia quindi che ci fosse un rischio causato da un regime non è cosa nuova e cosa che si sapeva già da prima che l'Unione Europea poi vendesse in questi 20 anni 800 milioni di euro di armi alla Russia ma tornando all'intervento civile fatto dalla Papa Giovanni XXIII e da altre organizzazioni dell'arcipelago pacifista e non violento l'idea era quella di di portare degli aiuti e di riportare indietro 70 persone che volevano fuggire dalla guerra alla fine si è riusciti a salvare dalla guerra circa 300 persone e questo è il commento di chi ha realizzato questa azione concreta e dicono di fronte a questa catastrofe ci sono due scogli da evitare il primo è il senso di impotenza non possiamo fare nulla l'altro è il senso di onnipotenza possiamo fermare questa guerra in mezzo a questi due scogli c'è uno spazio di azione enorme ed è in questo spazio di azione tra l'impotenza e l'onnipotenza che si è inserita l'iniziativa di pace realizzata in questi giorni e secondo la Papa Giovanni XXIII e io condivido un'azione civile non violenta è la sola via valida per rispondere all'aggressione anche nel principio gandiano che non puoi piantare il pero e aspettarti le mele non puoi seminare guerra e aspettarti che arriva la pace non puoi diffondere armi e aspettarti che arrivi sicurezza protezione e rispetto dei diritti umani e quindi questo apre come questione di metodo la prima grande domanda che cosa c'è nello spazio di azione tra il senso di impotenza della gente comune e il delirio di onnipotenza della pace armata del voler fermare la guerra del volerci sentire in grado con il nostro appoggio morale ideale a un'azione militare a una spedizione di armi a un approccio militarista e militarizzato quest'illusione di poter decidere le sorti di intere nazioni e del mondo che cosa c'è appunto tra l'abbandono lo scoraggiamento l'ignavia e il delirio di onnipotenza della pace armata che ha già fallito in tanti scenari come l'Iraq la Afghanistan la Libia e potremmo la Siria e potremmo continuare e l'approccio metodologico è proprio quello di non chiederci come riscrivere la mappa geopolitica dell'Europa come sostituire un regime in Russia con una democrazia ma chiederci qual è la reale possibilità di intervento che abbiamo noi con i nostri limiti di cittadini che all'Italia con i limiti di un governo che è comunque inserito nel quadro di Unione Europea quali sono i limiti dell'Europa per scoprire che poi se andiamo fino in fondo alle potenzialità che sono delimitate da questi limiti si può fare tanto e qui arriviamo al primo punto la democratizzazione dell'ONU anche qui chiedere la democratizzazione dell'ONU finora è sempre stato qualcosa che è stato visto come illusorio qualcosa che i pacifisti chiedevano come anime belle qualcosa di campato in aria che non ha riscontri poi nella politica concreta la democratizzazione dell'ONU la chiede il movimento pacifista da decenni un esempio di queste richieste è un appello del 1992 che aveva tra i suoi firmatari Norberto Bobbio e Don Tonino Bello tra i vari punti di questo appello c'era la proposta di abolire nel consiglio di sicurezza il diritto di veto e qui poi c'è la postilla che inizia a far vedere quanto sia concreto e pragmatico anche l'approccio pacifista se proprio non si può abolire per tutto perché ci sono le superpotenze che se lo tengono stretto questo diritto di veto allora faccia in modo che sia abolito almeno per le materie riguardanti i diritti dell'uomo e dei popoli a cominciare col diritto alla vita all'esistenza e all'autodeterminazione qual è stato a cosa sarebbe servita questa democratizzazione dell'ONU in queste ore questo è un messaggio di ieri di Antonio Guterres in cui spiega concretamente da un punto da una prospettiva interna alle Nazioni Unite quindi da una prospettiva strettamente politica da una prospettiva tecnica di un addetto ai lavori quindi non è il velletarismo di un'anima bella ma è la constatazione della massima carica delle Nazioni Unite che dice I regret the divisions mi dispiace assistere le divisioni che hanno impedito al Consiglio di Sicurezza di agire sull'Ucraina e altre minacce alla pace quindi il segretario generale ONU Guterres ha stigmatizzato questo stallo che ha bloccato il Consiglio di Sicurezza qual è la conseguenza? Se leghiamo le mani alla politica gli unici che hanno il diritto di parola sono restano gli eserciti che hanno appunto carta bianca in quanto la dimensione più alta della democrazia che è la democrazia internazionale multilaterale dell'ONU ha le mani legate dal diritto di veto quindi questo appello del 1992 se fosse stato recepito nell'agenda politica della sedicente sinistra o nel pragmatismo dei sedicenti governi che in questi anni hanno fatto tante guerre con esiti con cui non si vuole mai fare i conti se avessero dato retta a questa agenda politica del pacifismo oggi il segretario generale dell'ONU non avrebbe dovuto lamentare uno stallo nel consiglio di sicurezza e arriviamo al secondo punto rispetto degli impegni ONU per destinare il 7 per mille ovvero lo 0,7% del PIL alla cooperazione e allo sviluppo che anche qua non è una cosa che viene dalle ONG dall'associazionismo dal buonismo dal pacifismo sognatore è un obiettivo politico delle Nazioni Unite è un obiettivo stabilito negli anni 70 quindi ben prima degli accordi tutt'altro che vincolanti con la Nato per destinare il 2% del PIL alla spesa militare è un obiettivo che fa parte degli obiettivi ONU per lo sviluppo del millennio se noi clicchiamo su questa immagine c'è il link alla pagina degli obiettivi dello sviluppo del millennio gli unici stati che rispettano questo impegno internazionale sono la Svezia con l'1,14% la Norvegia con l'1,11% il Lussemburgo con l'1,02% la Danimarca con lo 0,73% la Germania sempre 0,73% e il Regno Unito 0,7% tutti gli altri stati giù 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 fino all'Italia che destina un misero 0,22% del PIL alla cooperazione sono stati inadempienti e qui sorge spontanea la domanda perché ci siamo affrettati a onorare gli impegni presi con la Nato mentre ignoriamo dagli anni 70 quindi 80 90 2000 2010 2020 ignoriamo da mezzo secolo gli impegni presi con le Nazioni Unite a cosa sarebbe servito rispettare questo impegno beh sarebbe sicuramente servito a garantire l'assistenza ai profughi dall'Ucraina che hanno sforato il tetto dei 4 milioni e Matteo Villa che è un ricercatore dell'ISPI che è l'unico finora che ha pubblicato dati sulla situazione dei profughi per quanto io sia conoscenza ha calcolato che le risorse stanziate per i profughi basteranno solo per tre mesi e quindi non è il pacifismo essere velletario inconcludente astratto e sognatore è la politica che al di là di un generico di una generica frenesia friccicorio di riarmo non sa dire come si darà assistenza materiale concreta e umanitaria a questi profughi che al momento sono il 10% della popolazione dell'Ucraina ecco qua il grafico dell'ISPI fatto elaborato su dati ufficiali del ministero dell'interno con proiezioni calcolate dall'ISPI quindi come vedete già il 25 di marzo eravamo paurosamente vicini al tetto di risorse stanziate per i profughi terzo punto adesione al trattato ONU per la messa al bando delle armi atomiche e anche qui arriva il militarismo la realpolitik che dice ma come come fai a difenderti senza armi atomiche di fatto chi non ha aderito al trattato per la messa al bando delle armi atomiche è una ristretta minoranza di stati canaglia che insistono nella mutua deterrenza nucleare che si è già capito dopo la guerra fredda che serviva solo a mettere a rischio tutta l'umanità questo trattato entrato in vigore il 22 gennaio 2021 è ha reso illegale ai sensi del diritto internazionale lo sviluppo il test la produzione la fabbricazione l'acquisizione il possesso lo stoccaggio il trasferimento l'uso o la minaccia di utilizzare armi nucleari inoltre rende illegale assistere o incoraggiare chiunque a impegnarsi in queste attività per un curioso paradosso l'Italia inizialmente aveva votato favorevolmente alla discussione all'adesione del trattato da parte dell'assemblea generale ONU poi è arrivata la telefonata degli USA alla Nato è arrivata la telefonata Nato all'Italia e hanno comunicato dicendo guarda ci siamo sbagliati abbiamo votato a favore mentre in realtà siamo contro se avessimo aderito a questo trattato saremo più sicuri o più a rischio avremo una maggiore protezione o saremo meno protetti avremo difeso la patria o l'avremo messa a rischio questi nella mappa in azzurro sono gli stati che hanno adottato il trattato in grigio quelli che non hanno votato in nero c'è il puntino qua che si è astenuto e qui l'unico stato che ha votato contro che mi sembra sia l'Olanda questo per darvi un'idea di quanto sia vasto il consenso attorno a questo trattato a cosa sarebbe servito saremo più sicuri o meno sicuri aderire a questo trattato a maggior ragione se questa adesione fosse avvenuta in blocco dal blocco degli stati dell'Unione Europea si sarebbero isolate le superpotenze nucleari in una preistoria atomica radioattiva eliminando ogni pretesto di presunto mutua deterrenza che legittima l'esistenza dei due arsenali nucleari più estesi del mondo quello della Russia e quello degli USA l'adesione a questo trattato avrebbe reso l'Italia più sicura mentre adesso le testate nucleari americane presenti nel nostro territorio sono un bersaglio strategico in caso di guerra nucleare l'abbiamo visto nel caso delle cronache di questi giorni non abbiamo abbiamo sostenuto la fornitura di armi una parte belligerante quindi siamo entrati in guerra abbiamo testate nucleari e quindi siamo un bersaglio e l'adesione a questo trattato sarebbe anche servita a liberare risorse per un nuovo modello di difesa basato sulla prevenzione dei conflitti la cooperazione multilaterale l'intervento civile in zone di conflitti sociali prima che questi conflitti degenerino esplodano diventando guerre militari e qui aprendo la questione della difesa civile si arriva al quarto punto della proposta politica forte e efficace e con grande potenzialità che ha espresso finora l'area culturale pacifista e non violenta che è la creazione di un corpo civile di pace europeo che ancora una volta non sono le anime belle dei figli dei fiori che si mettono le ghirlande e vanno a sventolare bandiere arcobaleno ma è un progetto legato a una risoluzione scusate una risoluzione del Parlamento europeo del 2001 che era basata su una comunicazione della Commissione europea sulla prevenzione dei conflitti l'idea di un corpo civile di pace di una forza civile non armata nasce dall'entusiasmo dell'ecopacifista Alex Langer che con i verdi al Parlamento europeo ha elaborato il primo documento preparatorio di questa idea di corpo civile di pace che potete trovare su azione non violenta dell'ottobre 1995 e Langer lancia indica i punti essenziali di questa proposta di corpo civile di pace che è tutt'altro che astratta ha una solidità una concretezza e una lungimiranza tali da spingere il Parlamento europeo a fare propria questa proposta che cosa dice questa risoluzione del 2001 che voi poi troverete nel link che vi lascio qua assieme alle diapositive dice che il programma politico 21 anni fa nel 2001 era si ribadiva la necessità di istituire un corpo civile di pace per e qui apro le virgolette immaginate che cosa sarebbe accaduto se avessimo fatto queste cose negli ultimi 20 anni anche in Ucraina per coordinare a livello europeo la formazione e l'invio di specialisti civili per attuare misure pratiche per la pace quali arbitrato mediazione distribuzione di informazioni imparziali attenuazione degli effetti dei traumi e ripristino di un clima di fiducia tra i belligeranti aiuti umanitari reintegrazione riabilitazione ricostruzione istruzione nonché monitoraggio e miglioramento della situazione dei diritti umani e l'obiettivo del corpo civile di pace è proprio impedire che le situazioni di crisi degenerino in violenza basandosi sull'esperienza delle ONG specializzate nella prevenzione dei conflitti e nella gestione delle crisi che avrebbero dato il loro contributo scientifico e sociale ora immaginate un programma di intervento del genere applicato a una società lacerata come quella ucraina una società spaccata in due in cui una componente cercava un protettorato filo russo e un'altra cercava un protettorato filo NATO filo UE e filo NATO una spaccatura nel quale si è inserito un autocrate Putin che ha avuto gioco facile nei propri piani di imperialismo o gioco facile in apparenza a inserire il proprio esercito in questa frattura sociale immaginate se ci fosse stato un intervento civile preventivo per ricomporre questa frattura sociale aiutare la società ucraina a emanciparsi e a trovare la propria dignità autonomia indipendenza al di fuori di qualunque protettorato per ricomporre una frattura che è stata prima di tutto civile e quindi ricomponibile con un intervento civile in prospettiva di un'Ucraina neutrale prospera e unita e questa col senno di poi mi sembra la cosa più concreta che avrebbe potuto fare l'Europa per l'Ucraina anziché ripeto vendere 800 milioni di euro di armi alla Russia negli ultimi vent'anni a cosa sarebbe servito un corpo civile di pace europeo appunto disinnescare il separatismo filo russo esploso in seno alla società ucraina e ricomporre la frattura interna a questo popolo prima che il regime russo approfittasse cinicamente vigliacamente di una società che abbiamo abbandonato a se stessa fino a ieri una società che abbiamo lasciato lacerata a cui è stato impedito di emanciparsi quinto e ultimo punto la riconversione della spesa militare in spesa sociale allora siccome sui giornali e le televisioni le trombe dell'inevitabilità e dell'utilità della spesa militare stanno squillando con un volume assordante partiamo dai dati di realtà il primo dato di realtà è che questa questa opposizione alle spese militari non è peculiare non è caratteristica dell'area culturale pacifista e non violenta ma è un orientamento un sentimento della maggioranza del paese che resta maggioranza anche quando fanno i quesiti difficili da capire lei è in accordo con l'affermazione che non è giusto che è l'Italia quindi un 54% era d'accordo col fatto che non sia giusto l'aumento delle spese militari al 2% del PIB e qui abbiamo anche una curiosa propaganda rispetto a questa contrarietà perché nei sondaggi lei d'accordo con l'invio all'Ucraina di armi c'era un 55% che stranamente è meno della metà della fetta di torta un 33% che stranamente occupa la stessa superficie del 55% fatto sta che anche quando si fanno le manipolazioni e i taroccamenti sulle immagini la maggioranza degli italiani si è espressa in senso contrario sia all'aumento delle spese militari sia all'invio di armi ora quali sono i numeri effettivamente in campo i numeri sono questi la spesa militare della Russia e questa fettina piccola celeste da 61 miliardi di dollari il resto della spesa militare del nostro blocco Nato la spesa di chi vuole aumentare la spesa militare perché dice che non ci sono abbastanza soldi sono 649 miliardi degli Stati Uniti che già da soli fanno 10 volte la Russia e quindi siccome gli Stati Uniti sono obbligati ad aiutarci dal trattato Nato in caso di aggressione sarebbe anche inutile spendere la spesa militare dell'Italia però si aggiunge comunque una spesa militare di altri 314 miliardi quindi abbiamo 1000 miliardi di dollari contro un esercito da 61 miliardi di dollari ammesso che ci vogliamo difendere dalla Russia con questa spesa militare perché altrimenti non si spiega questi soldi li usiamo per difenderci dai marziani dagli alieni che escono sotto terra da non si sa bene che cosa e quindi dando i numeri recuperando il senso delle proporzioni della realtà e dei numeri noi possiamo immaginare che cosa potremmo fare per il progresso umano non dico con i 649 miliardi degli Stati Uniti ma con i 314 che stiamo spendendo in Europa e negli Stati europei che aderiscono alla Nato e questa proposta politica molto concreta del pacifismo ci consentirebbe di gestire in modo virtuoso e non repressivo o stagionale il problema delle migrazioni sarebbe stata di aiuto anche i profughi rifugiati in Italia ci avrebbe consentito di evitare Italia la sanità ci avrebbe consentito di avere un corpo docente meno precario dei servizi pubblici migliori avrebbe di fatto creato un modello di sviluppo virtuoso antagonista al modello di espansionismo militare che da una parte e dall'altra sul fronte Nato e sul fronte russo vengono spacciati come le strategie vincenti e qui abbiamo il famoso impegno del 2% ora questi erano i dati prima della scellerata avventura politica che ha portato l'Italia dall'1,15% delle spese militari l'1,15% del PIL fino alla recente corsa agli armamenti di cui dovranno rispondere tutti i partiti politici a cominciare dalle prossime elezioni un abuso una manipolazione che io considero anche uno sciacallaggio perché è un'azione politica fatta sulla pelle delle vittime della guerra in Ucraina strumentalizzando quelle morte e quelle stragi per aumentare la lista della spesa di armi qual è l'effetto che ha Vigevano la giunta leghista non trova i soldi per pagare la mensa scolastica ai profughi ucraini e i bambini ucraini devono pagare la mensa fortunatamente con l'aiuto dei gruppi di volontariato e delle sottoscrizioni allora è il modello di sviluppo pacifista è la proposta culturale non violenta che è quella strato o velleitaria o è assurda e disumana una proposta politica che aumenta la spesa militare e toglie i soldi della mensa e lascia a digiuno i profughi i bambini profughi accolti nel nostro paese qual è l'idealismo per quanto si tratti di un ideale malato io l'idealismo lo vedo nel militarismo non lo vedo nella concretezza della proposta politica di tutta l'area pacifista e del volontariato in sintesi il pacifismo pragmatico e la politica non violenta sono proposte molto solide e concrete per mettere la guerra fuori dalla storia quindi per il progresso della civiltà e per salvare vite umane come letture consigliate perché la questione della pace e della non violenza va affrontata anche e soprattutto dal punto di vista scientifico perché risolvere i conflitti aumentando la spesa militare rispetto alla scienza dei conflitti rispetto alle scienze sociali del peacekeeping è l'equivalente di risolvere il coronavirus facendo eclisteri con la candeggina solo che i nostri governi quando si trattava della pandemia erano molto ligini nel dire che bisognava seguire la scienza quando si tratta del tirare le conclusioni da quello che dicono le scienze umane le scienze sociali la scienza si dimentica e allora noi oggi la ricordiamo perché il pacifismo è anche decenni di letteratura scientifica che possono spiegare la differenza tra armare eserciti belligeranti e operazioni di peacekeeping è una letteratura scientifica che comprende casi di studio di intervento civile in zone di conflitto che hanno scongiurato l'escalation e l'esplosione di guerra la letteratura scientifica ha analizzato le potenzialità basta andare su google scholar e sbizzarritevi a cercare su google scholar con le parole chiami in inglese e troverete una vastissima letteratura scientifica sulle potenzialità degli strumenti di difesa civili non armate e non violente trovate una letteratura scientifica sull'impiego di armi non letali per operazioni di interposizione in contesti bellici e questo impiego di armi non letali per interposizione avrebbe consentito all'Unione Europea di non perdere il suo ruolo politico di terzietà in questo conflitto che invece ha scelto di perdere con una fornitura di armi che l'ha resa di fatto una parte belligerante perché quando dai le armi a una parte che è in guerra ti stai schierando in questa guerra e ne fai parte il che non ha come alternativa l'inazione l'ignavia la complicità con Putin come si divertono a dire a giocare dialetticamente nei talk show ma c'è tutto una serie di alternative tra cui l'impiego di armi non letali per operazioni di interposizione sotto legida dell'ONU in contesti di scontro armato anche perché quando siamo poi a casa nostra siamo ben contenti che ci sia differenza tra l'esercito addestrato a uccidere e la polizia addestrata ad arrestare a fermare non a sparare con delle regole di ingaggio che si utilizzano in guerra mentre invece quando vogliamo la sicurezza degli altri popoli non andiamo tanto per il sottile e polizia internazionale esercito guerra peacekeeping armi a un esercito o armi non letali ci sembrano più o meno la stessa cosa mentre non lo sono vi lascio invitandovi a condividere tutte queste informazioni che voi avete visto sono condivise su sociale.network che è la nostra piattaforma ecopacifista nostra realizzata da PeaceLink che ha funzioni più avanzate di Twitter si può scrivere fino a 500 caratteri per argomentare per ragionare non per andare a slogan è basata su software libero con dati trasparenti senza manipolazioni filtraggi schedatura pubblica eccoci qua allora dicevo riprendiamo lo streaming dicevo che su questi temi di cui ho parlato oggi si possono non solo seguire ma anche alimentare gli hashtag basta guerra e basta armi che voi trovate su sociale.network ecco qua per creare un account vi basta andare appunto su www.sociale.network l'unica cosa che vi chiederemo sarà un'email per il recupero password e come consigli di lettura che avevo dimenticato di evidenziare c'è sia il Rutledge Endbook of pacifism and non violence il monale Rutledge del pacifismo e della non violenza e soprattutto i rapporti annuali del SIPRI che riguardano appunto come vedete nel titolo armi disarmi e sicurezza internazionale questo è questa è la Bibbia per qualunque decisore politico voglia esprimersi o intervenire o prendere decisioni su basi scientifiche basandosi su dati di realtà relativamente a questioni militari di riarmo e di spesa militare quindi vi invito a partecipare anche voi allo scambio la condivisione di informazioni su sociale punto network di tutta questa serie di dati che noi stiamo cercando di mettere insieme per costruire anche un fronte culturale degli spazi dove non si monetizza il discorso d'odio perché questo è quello che accade sui social network commerciali ma si condividono informazioni per il progresso umano raccolgo alcune domande Alessandra Fava chiede perché si è arenato il progetto dei corpi civili di pace europei perché la destra italiana è lontana culturalmente anni luce la sinistra italiana ed europea non ha sviluppato la cultura necessaria o la volontà politica necessaria o la sensibilità necessaria per sostenere questo progetto in pratica perché c'è stato un disinteresse rispetto alle potenzialità dell'intervento civile e umanitario in zone di conflitto Elio Pagani dice giustamente che molto di quello che vi ho dato che vi ho detto stasera sull'intervento civile si deve anche al professor Papisca del centro per i diritti umani di Padova e non vedo altre domande Elio giustamente ci ricorda la carta delle Nazioni Unite che anche lì prevede molti strumenti di arbitraggio e risoluzione non armata dei conflitti lasciando come ultima razio le azioni di peacekeeping che non sono la fornitura di armi a parti belligeranti e quindi non vedendo altri quesiti nella chat di Youtube lascio la parola ad Alessandro e interrompo la condivisione bene mi collego alle cose che ha detto Carlo lui ha fatto l'agenda della pace io purtroppo devo fare l'agenda della guerra e cerchiamo di fare il punto di quello che sta accadendo per cui Carlo l'ho divisa in sette parti questa agenda della guerra e mi fermerò in maniera tale che tu magari fai presente quelle che possono essere le domande sui singoli punti va bene allora provo a condividere e mi dite se si vede o no insieme delle slide si vedono le slide spero di sì sì si vedono ok bene la voce si sente l'agenda della guerra dopo aver ascoltato le parole di Carlo sull'agenda della pace così a mio parere ragionevoli razionali e convincenti a me tocca l'ingrato compito di spiegare qual è l'agenda della guerra così poco convincente tuttavia mi limiterò a dare delle informazioni nude e crude in particolare sul primo punto chi sta vincendo e chi sta perdendo questa guerra non lo dirò io lo lascerò dire ad esperti militari che cosa pensa l'opinione pubblica della guerra se è in atto una pericolosa escalation se abbiamo indebolito Putin se stiamo indebolendo il pluralismo con informazione a senso unico insomma abbiamo alcune delle domande che possiamo su cui possiamo ragionare la prima domanda chi è che vince chi è che perde in questa guerra io mi baso essenzialmente su una rivista specializzata che è analisi difesa in un editoriale recentissimo Gianandrea Gaiani individua tre sconfitti l'Ucraina perché viene devastata e probabilmente sarà divisa dal conflitto scusami Alessandro siccome su Youtube si vedono le slide un po' sgranate e si fa fatica a leggere puoi interrompere e riprendere la condivisione? sì adesso si vede ti dico subito adesso sì perfetto benissimo faccio presente che c'è un QR code per cui chi vuole scaricare adesso sul momento queste slide può inquadrare il QR code e scaricherà queste slide e in un certo senso potrà scaricare anche le tue Carlo perché le ho agganciate le cose qui c'è anche il mio indirizzo di posta elettronica come vi ho detto e sono suddivise queste slide in sette parti la prima parte è un'analisi strettamente di tipo militare al di là delle versioni più o meno propagandistiche di una parte o dell'altra ho cercato di basarmi essenzialmente su analisi difesa che è una rivista militare specializzata in un editoriale vengono individuati quelli che sono i tre sconfitti almeno in questo momento della guerra la prima nazione sconfitta è l'Ucraina che uscirà in ogni caso devastata da questa guerra e con pesanti condizioni di pace e anche pesanti perdite territoriali che ne dica Zelensky che vorrebbe mantenere l'integrità territoriale sicuramente la Crimea non riuscirà a riaverla e sicuramente il Donbass non riuscirà a riaverlo se si riusciranno a mantenere i confini precedenti al conflitto sarà già un miracolo per Zelensky la seconda sconfitta la seconda nazione sconfitta è la Russia che al di là dei possibili successi militari comunque viene tagliata fuori dall'Europa e viene costretta ad un braccio di ferro continuo con il resto del mondo e dovrà cercare un accordo con la Cina e altre nazioni in un rimescolamento complessivo dei rapporti che non sarà utile né alla Russia né lo vedremo al resto del mondo la terza non nazione il terzo continente sconfitto è l'Europa che sarà costretta a fare i conti dice scrive Gianandrea Gaiani con la propria incapacità e rilevanza geopolitica con la pochezza della sua classe dirigente e con una disastrosa devastante crisi economica ed energetica che è connessa a questa guerra chi è che invece vince sempre secondo questa analisi di di Gaiani a vincere sarebbe la Cina e soprattutto gli Stati Uniti guardate questa questa statistica questa classifica la nazione prima al mondo in questo momento per prodotto interno lordo è la la Cina che si posiziona prima dell'Unione Europea e l'Unione Europea si posiziona prima degli Stati Uniti è molto probabile che alla fine di questa guerra gli Stati Uniti scavalcheranno l'Unione Europea e si posizionano al secondo posto in conclusione chi sta vincendo la guerra la guerra la sta vincendo chi non la sta facendo chi non la sta chi non è coinvolto direttamente gli Stati Uniti sono molto lontani e sono in una posizione privilegiata un po' come è accaduto nel primo conflitto mondiale in un certo senso anche nel secondo come ho detto prima ci sono delle similitudini con altre guerre in particolare con la prima guerra mondiale l'Europa infatti ha perso la sua centralità economica proprio con le due guerre mondiali perché le ha dovute combattere sul proprio territorio mentre invece gli Stati Uniti no e a rileggere la storia della prima guerra mondiale troviamo delle impressionanti similitudini in primo luogo al di là dell'attentato a Sarajevo che fu diciamo una scintilla che fece scoppiare la guerra e cominciò ad attivare gli schieramenti ma soprattutto fu l'indignazione causata dall'invasione del Belgio da parte della Germania che portò una parte dell'Europa cosiddetta democratica a schierarsi contro la Germania l'invasione del Belgio viene ricordata anche come stupro del Belgio le cose che furono fatte in Belgio anche nei confronti della popolazione civile da parte dell'esercito tedesco sono di gran lunga peggiori rispetto a quelle a cui stiamo assistendo ma comunque fu proprio l'invasione del Belgio a portare diverse nazioni a schierarsi militarmente per la guerra giusta e fu lo stesso Mussolini allora socialista che decise di abbandonare la posizione di non intervento per dichiararsi su una posizione di neutralità attiva il che significava non entrare ancora in guerra però essere attivi al fianco delle nazioni che si contrapponevano all'Austria e alla Germania questa la prima guerra mondiale fu presentata come una guerra per la democrazia perché c'era proprio l'invasione del Belgio ma quando è finita la prima guerra mondiale nessuno si è più ricordato che questa era una guerra per la democrazia e per riparare l'invasione del Belgio in questa prima guerra mondiale si trovarono fianco a fianco democratici interventisti e nazionalisti i war poets che sono stati poeti che in maniera romantica partirono dall'Inghilterra per combattere per la democrazia alla fine ripudiarono questa guerra e si distaccarono dalla politica del governo inglese che diceva la vittoria e la pace perché quella diventò una guerra di logoramento con delle ricadute disastrose sulla vita delle persone sull'economia e sul futuro complessivo dell'Europa paradossalmente questa lezione della prima guerra mondiale la siamo completamente dimenticati perché Stoltenberg segretario generale della Nato proprio oggi dice dobbiamo prepararci a un lungo conflitto e io quando ascolto queste parole avverto i brividi perché vuol dire che non abbiamo capito niente della prima guerra mondiale e queste sono le immagini che si riferiscono a quella guerra si diceva la vittoria e la pace la pace era la fine della guerra vittoriosa e date denaro per la vittoria Zelensky il 25 marzo 2022 dichiara ci stiamo avvicinando alla pace ci stiamo avvicinando alla vittoria questa guerra non può essere senza vittoria così sarà sono frasi che ricalcono esattamente la propaganda della prima guerra mondiale ci sono domande o posso passare alla seconda parte passo alla seconda parte non vedo domande su youtube quindi puoi proseguire qui mi ricollego a cose che hai detto anche tu cosa pensa l'opinione pubblica solo 3 su 10 credono alle informazioni diffuse e quindi c'è una grande sfiducia nei confronti della RAI dell'informazione perché solo 3 italiani su 10 credono che l'informazione sulla guerra diffusa sia un'informazione neutrale e oggettiva 7 su 10 sono abbastanza sulle difensive pensano che ci sia manipolazione delle informazioni ritroviamo questo 3 e 7 perché i 3 che si fidano delle informazioni diffuse sono poi i 3 che sono a favore dell'invio delle armi vediamo che solo 3 italiani su 10 sono per l'invio delle armi esattamente il 29% in questo sondaggio recentissimo dell'Ipsos solamente il 5% è favorevole all'intervento militare a un coinvolgimento diretto dell'Italia qui vediamo il titolo dato da Libero il 1 marzo 2022 sull'aumento delle spese militari ci armiamo era ora e Repubblica proprio recentemente dà anche una giustificazione all'aumento delle spese militari perché fanno bene sono il volano un volano dell'economia ma vediamo che questo fatto che c'è una forte fetta maggioritaria dell'opinione pubblica contraria alla guerra bene questo sta provocando qualche problema a livello politico c'è un potenziale impatto perché la Fitton Post scrive conta e guarda i sondaggi e per non morire diventa pacifista c'è un impatto dell'opinione pubblica pacifista che non va trascurato e che dobbiamo cercare di gestire senza essere strumentalizzati ma certamente per spostare un pochettino l'orientamento complessivo e mantenere forte e ferma questa maggioranza di italiani contrari alla guerra anche perché Draghi viene bocciato proprio sulla guerra la maggioranza degli italiani il 54% è del tutto insoddisfatto per il modo con cui il Premier si è mosso in merito alla guerra non solo ma Conte registra semplicemente quello che ci dicono i sondaggi di opinione proprio cavalcando questo spirito pacifista del popolo italiano che in questo momento non vuole imbarcarsi in avventure belliche addirittura scavalca Letta, Salvini e Meloni e si classifica come primo leader politico proprio lui che era in forte crisi per tutti i problemi che sappiamo l'eliti all'interno del Movimento 5 Stelle e così via qui troviamo quotidiano nazionale che proprio recentemente titola gli italiani contro l'invio delle armi bocciato draghi e filo americano una fetta degli italiani vede in questo connubio questo andare a braccetto con la politica di Biden qualcosa di non condivisibile una pericolosa escalation prima di andare avanti se ci sono domande mi fermo ok vado avanti e queste che vediamo sono immagini proprio di oggi sempre prese dal sito specializzato analisi difesa queste che vediamo dicendo che c'è solo un inciso di Elio Pagani che dice che in realtà Conte ha accettato la mediazione di un aumento al 2% della spesa militare al 2028 quindi una dilazione sì è giusto Conte non si sta opponendo sta semplicemente mostrandosi un po' diverso ma poi segue Draghi e obbedisce purtroppo è così però è importante notare che c'è comunque questa questa fetta al 70% dell'opinione pubblica che non le vuole sapere di mettersi nel metto e quello che vediamo è qualcosa di estremamente preoccupante sono immagini proprio che stanno circolando in queste ore Ucraina da Praga le prime forniture di mezzi corazzati da paesi Nato si tratterebbe di carri armati T-72 e di veicoli da combattimento BMP-1 ecco qua un altro la Repubblica cieca avrebbe inviato carri armati di tipo sovietico in Ucraina lo ha riferito al Wall Street Journal citando tre funzionali ciechi e slovacchi sottolineando che è la prima volta che un paese straniero fornisce carri armati all'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio e qui c'è un'altra immagine sempre questi carri armati che stanno viaggiando su rotaia mi aspetto francamente che tra qualche giorno vedremo i missili che voleranno carri armati di costruzione russo-sovietica non credo che la Russia rimarrà a guardare questo traffico di carri armati gli Stati Uniti e la Nato cercano di reperire mezzi pesanti da combattimento di costruzione russo-sovietica perché sono quelli su cui si sono addestrati i soldati dell'Ucraina non metterà a disposizione invece i propri mezzi l'Ungheria che recentemente anche nella competizione elettorale ha visto prevalere una larga fetta dell'opinione pubblica anche qui veramente larga contro ogni coinvolgimento nella guerra tutti questi carri armati che stanno partendo specifica bene la Nato non sono carri armati inviati dalla Nato ma da Praga guardate cosa dice il Wall Street Journal quella della Repubblica cieca è la decisione di un paese sovrano e non della Nato ha precisato l'ambasciatore statunitense presso l'alleanza atlantica circa due terzi degli alleati stanno fornendo armi letali all'Ucraina e domani dovremo capire cosa fare collettivamente e individualmente si incontrano per capire cosa fare ma soprattutto questo è un salto di qualità che non è targato Nato ma è targato Repubblica cieca il problema è dobbiamo assecondare questa escalation per il governo ucraino siamo già nella terza guerra mondiale questa è la vice di Zelensky che dice vogliamo la Nato la terza guerra mondiale è già qui la bozza di un accordo non accetteremo mai di cedere un metro dei nostri territori e adesso vedremo che l'espressione terza guerra mondiale che almeno io pensavo fosse usata in maniera esagerata da chi in Ucraina sta combattendo questa espressione terza guerra mondiale la stiamo usando anche noi ecco qua un quotidiano via approfondimento online come il sussidiario su cui scrivono studiosi intellettuali persone di grande esperienza bene ormai sta usando questo titolo terza guerra mondiale ultime notizie sembra così il titolo un po' così per attirare attenzione la troviamo anche nel sommario la terza guerra mondiale ormai la parola terza guerra mondiale non ci sta più spaventando è accettata e alcuni mezzi di informazione la stanno considerando appunto accettabile e le inseriscono nei titoli sono domande se non vado avanti con la quarta se abbiamo indebolito Putin Carlo se ci sono domande se no procedi pure affrontiamo questo questo problema perché fino adesso c'è stato detto noi dobbiamo continuare la guerra così Putin cade e finalmente continuando la guerra la guerra finirà prima e così arriviamo proprio a questo paradosso che proseguendola noi la interromperemo prima mentre invece se facciamo i timidi andrà avanti all'infinito guerra di logoramento che cosa dice il capo dei servizi segreti del Regno Unito è un militare dice finora il Cremlino non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi originali le operazioni russe sono cambiate la Russia sta perseguendo una strategia di logoramento ciò comporterà l'uso sconsiderato e indiscriminato della potenza di fuoco ciò comporterà un aumento delle vittime civili la distruzione delle infrastrutture ucraine e un'intensificazione della crisi umanitaria allora quindi noi stiamo facendo esattamente questo noi stiamo inviando armi per avere un'intensificazione della crisi umanitaria una maggiore distruzione delle infrastrutture ucraine e per avere un aumento delle vittime civili se questa è la previsione che fa un alto ufficiale dei servizi segreti del Regno Unito noi stiamo facendo l'esatto contrario di quello che farebbe una persona ragionevole che avesse a cuore la vita dei civili e in generale la sorte dell'Ucraina e adesso vediamo il rublo dice va bene però stiamo continuando la guerra perché in questa maniera facciamo crollare l'economia della Russia perché vedete il rublo il tonfo del rublo con la guerra in Ucraina vedete proprio subito dopo l'invasione ecco che il rublo crolla guardate cosa succede adesso sta risalendo e queste sono proprio le rilevazioni che ho preso poco fa qualche ora fa sono quelle del 6 aprile 2022 cioè oggi e sta risalendo la grande il rublo e la cosa viene confermata anche dal settimanale scusate dal quotidiano la stampa non solo il rublo sale ma sale nel sondaggio anche Putin il sondaggio compiuto da sondaggisti indipendenti che sono considerati una spina nel fianco proprio per la loro indipendenza Levinson non è certamente un sostenitore di Putin gli istituti che fanno sondaggi indipendenti ci dicono tutti che Putin sta salendo nei sondaggi questo è il più recente 83% dei russi sostiene Putin e non solo Levinson dice attenzione che di questo passo il consenso di Putin crescerà ancora e gli chiedono ma perché secondo Levinson il consenso per Putin crescerà ancora perché ci sono gli indicatori come faccio a dirlo un esempio quando ci sono pressioni governative sulle opinioni come oggi in Russia tendono a documentare le risposte del tipo non sono risponde che in genere sono degli indicatori di paura ma in questo caso no molte persone sembrano aver aderito convintamente alla versione diffusa dalla propaganda russa e non è che dicono non lo so ma rispondono orgogliose a favore dell'operazione militare uno può essere favorevole contrario sono stati imbecilliti sono stati rimambiti dalla propaganda ma questo è ciò che sta emergendo cosa vuole Putin dall'Ucraina mi invito a vedere questo filmato è un video che mette al centro le tre grosse questioni quella della neutralità del Donbass e della Crimea è fatto molto bene è stato fatto da fanpage l'ho fatto vedere i miei studenti ed è istruttivo perché mentre si sa che cosa vuole Putin che cosa voglia Zelensky non lo abbiamo ancora capito e questa è la situazione sul campo come vediamo la Crimea che era in mano alla Russia ha esteso la propria influenza a nord e quindi abbiamo un'area ancora più ampia a nord per cui Zelensky dovrà fare i conti con il fatto che ha perso territori come pure per quanto riguarda il Donbass qui ad est c'è un'offensiva da Kharkiv che punta ad estendere il controllo su un'area del Donbass che prima non era controllata dai filorussi la pressione su Kiev sembra più che altro una pressione per tenere impegnata una parte dell'esercito che sta a difesa di Kiev perché l'esercito ucraino dal punto di vista numerico è superiore rispetto in termini proprio numerici di forze ma non di tecnologia all'esercito russo l'esercito russo sta cercando soprattutto qui ad est di accerchiare una notevole quantità di soldati che gli ucraini hanno lì che sono trincerati per evitare uno sfondamento delle linee del Donbass la domanda è allora le domande sono abbiamo allora indebolito Putin oppure stiamo indebolendo l'Europa con questa guerra il gas russo che dovremmo sostituire così nella mente di alcuni che stanno dicendo adesso dobbiamo ad esempio Letta dice dobbiamo sostituire il gas russo andiamo a fare i conti il gas russo può essere sostituito solamente per un decimo dal gas naturale liquefatto e occorrono ricastificatori che non ci sono la prospettiva di sostituzione del gas russo è quella di un ritorno al carbone questo significa mettere da parte la strategia della decarbonizzazione la cancellazione dell'agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile non solo ma c'è il rischio che la Cina a questo punto incominci a comprare il gas russo con lo sconto del 10% perché questo sta già avvenendo e sta avvenendo in parte ancora ridotta perché ci sono tutta una serie di problemi di gasdotti ma nel caso in cui venisse costruito un nuovo collegamento un nuovo gasdotto tra la Cina e la Russia lo stanno costruendo il nostro boicottaggio del gas russo significerebbe semplicemente che la Cina si prende il gas dell'Europa la guerra in questo momento costa l'Italia 41 miliardi Confindustria lancia l'allarme siamo in recessione tecnica crisi terribile e Biden sta guadagnando da questa guerra probabilmente l'economia americana sta guadagnando notevolmente perché i profitti salgono ma dal punto di vista del benessere popolare la gente non ha per niente voglia di mettersi del metto tant'è vero che 7 americani su 10 non si fidano della conduzione di Biden di questa guerra hanno paura della guerra nucleare e quindi troviamo anche qui questi 7 su 10 che non sono favorevoli alla guerra il quadro complessivo che emerge è quello che avete potuto vedere per cui tutta questa propaganda a favore della guerra sta indebolendo chi? E soprattutto non è per caso che stiamo indebolendo il pluralismo? Mi fermo un attimo qui se ci sono delle domande vedo solamente un contributo di Alessandra riguardo la questione dello sdoganamento della terza guerra mondiale e dice che già nella seconda settimana Gentiloni ha iniziato a parlare di economia di guerra in qualche modo si fanno percolare parole che poi diventano concetti accettati e quindi c'è una normalizzazione di questo di questo stato di emergenza Io qui ho messo uno scambio veramente duro di accuse di Federico Rampini che dovrebbe costituire diciamo l'ala progressista degli intellettuali nei confronti di Marco Tarquinio che è il direttore della Covenire che è il quotidiano dei Vescovi Rampini accusa pregamente Marco Tarquinio di essere morbido nei confronti di Putin che cosa faceva Marco Tarquinio stava criticando le sanzioni imposte alla Russia perché queste sanzioni in un modo o nell'altro in maniera indiretta hanno un impatto notevolissimo sull'Africa e lo so io per esperienza diretta perché abbiamo dei contatti con il missionario Chizito padre Chizito in Africa si sta riversando un aumento dei prezzi degli alimenti impressionante fatto che Marco Tarquinio dica questa cosa qui viene attaccato da Federico Rampini che lo accusa pesantemente e se seguite questa spezzone su YouTube Marco Tarquinio gli risponde per le rime stiamo assistendo a tac tac veramente incredibili per cui viene considerato in un certo senso filo russo anche il direttore di Avvenire e questa vignetta di Alcanno mi fa un po' pensare alle cose che diceva prima Carlo che prima mettevi in evidenza come l'aiuto ai profughi alla fine non c'è però nel momento in cui fai emergere una voce dissonante un'informazione che dà fastidio alla narrazione che emerge sembra di rivedere questa questa vignetta guardi che per le varche ci vuole l'acqua scuse scuse la smetta di remare contro invece e quindi vengono considerati filo putine anche coloro che esprimono critiche documentate come ha fatto prima Carlo di buon senso in guerra l'importante è non remare contro e arriviamo a un punto che mi ha veramente colpito quello di 11 inviati di guerra che criticano la narrazione schierata a cui stiamo assistendo in questi giorni specialmente per quanto riguarda la RAI 11 storici inviati di guerra che criticano questa narrazione a senso unico e sono Massimo Alberizzi Remigio Benni Toni Capuozzo Renzo Cianfanelli Cristiano Laruffa Alberto Negri Giovanni Porzio Amedeo Ricucci Claudia Svampa Vanna Vannuccini Angela Virdò le critiche che vengono fatte verso questa narrazione nel senso unico sono abbastanza dure processeremo Putin per i crimini di guerra prima di rispondere a questa domanda se ci sono interventi li leggiamo puoi proseguire Sandro le contraddizioni dell'Ucraina l'Ucraina chiede che venga processato Putin per crimini di guerra ma proprio l'Ucraina non ha ratificato lo statuto della Corte Penale Internazionale per cui di fatto questa cosa che chiede non può essere realizzata la cosa non la dico io è l'ISPI che in una lunga rassegna che è una scheda che si intitola l'impossibilità della Corte Penale Internazionale nella crisi Ucraina questa scheda mette in evidenza che né la Russia né l'Ucraina sono stati parte della Corte Penale Internazionale e perciò si pongono fuori dalla competenza della Corte Penale Internazionale cioè se io non riconosco un tribunale come mai chiedo che questo tribunale intervenga qui vi lascio poi agli approfondimenti che l'ISPI fa sul suo sito qui abbiamo anche un link ad un ulteriore approfondimento che è sul sito di Bislink e qui vediamo la mappa di tutte le nazioni che hanno riconosciuto completamente firmando appunto e ratificando lo statuto della Corte Penale Internazionale sono quelle in verde mentre invece tutti gli altri colori sono colori di nazioni che o hanno firmato ma non ratificato o non hanno proprio firmato e qui vedete chiaramente che non ci sono né gli Stati Uniti né la Russia ma neanche l'Ucraina e a questo punto il Vice Presidente della Corte Penale Internazionale già Vice Presidente della Corte Penale Internazionale dice una cosa molto chiara dice le probabilità di portare Putin davanti alla Corte Penale Internazionale e rasenta lo zero dice un'apparizione di Putin o di altre persone davanti ai giudici può essere esclusa con una probabilità che rasenta la ragionevole certezza quindi tutta questa diciamo questa forte accentuazione che Putin verrà portata davanti alla Corte Penale Internazionale di fatto viene smontata dagli stessi esperti proprio perché sono proprio gli stessi attori di questa guerra coinvolti in maniera diretta o indiretta che non riconoscono l'autorità della Corte Penale Internazionale e perché l'Ucraina non ha ratificato lo statuto della Corte Penale Internazionale nel 2014 Amnesty International denuncia al Premier Ucraina di allora crimini e abusi da parte del battaglione Azov che è la battaglione con i neonazisti perché perché ci sono responsabilità da parte di questi combattenti del battaglione Azov nelle uccisioni di massa di prigionieri nell'occultamento di cadaveri in fosse comuni e nelle torture inflitte a combattenti e civili riscontrate nel Donbass durante gli scontri del 2014 e quindi l'Ucraina non è che si è dimenticata di firmare non ha voluto firmare per tenere al riparo il battaglione Azov da un processo per crimini di guerra qualcuno dirà però avrà avviato un processo con i propri tribunali leggiamo su questo sito molto ben documentato in Ucraina sono state aperte alcune inchieste che però allo stato attuale non hanno portato a delle conclusioni giuridiche e adesso arriviamo alle conclusioni mi avvio a concludere se non c'è qualcuno che ha scritto qualche cosa su YouTube la linea di discrimine questa qui esprime un mio parere tra chi è pacifista e non lo è è ormai diventata questa la scelta oltransista di combattere Zelensky ormai l'ha dichiarato noi combatteremo fino all'ultimo uomo fino alla vittoria e bisogna capire se Enrico Letta segretario del PD è su questa linea perché ce lo deve dire se la strategia ormai di Zelensky e di 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 Biden è diventata anche la strategia del Partito Democratico e soprattutto proseguire una guerra oltranza alla luce di tutte le cose che abbiamo visto prima è utile è nell'interesse di chi mi limito a leggere il la terza legge della stupidità una persona è stupida una persona stupida è una persona che causa un danno a un'altra persona o gruppo di persone senza nel contempo realizzare alcun vantaggio per sé o addirittura subendo una perdita fuori dalla genericità generalità diciamo di questa di questa legge fondamentale se l'obiettivo è quella di creare un danno a Putin fino ad ora questo danno non lo si è visto né dal punto di vista della sua popolarità che è cresciuta né dal punto di vista del crollo dell'economia che non c'è stato anzi c'è stato un recupero del rublo non solo ma messo alle strette Putin potrebbe decidere di stringere ulteriormente i rapporti con tutta quella parte del mondo a partire dalla Cina ma per andare anche all'India che è i primissimi posti abbiamo visto prima nella graduatoria dell'economia mondiale e l'India non a caso non ha avviato sanzioni nei confronti della Russia per cui se l'obiettivo è quello di causare un danno a Putin in questo momento l'unico danno che abbiamo causato è quello alla nostra economia è il danno che stiamo creando al sistema informativo e soprattutto è il danno che si sta creando alla popolazione ucraina che verrà sacrificata fino all'ultimo uomo secondo il volere del suo presidente e probabilmente secondo il volere di una fascia nazionalista abbastanza ampia e però dobbiamo sapere che ci sono tante persone che cercano di scappare da questa guerra e che vengono considerate disertori e non possono valcare il confine consigli per un approfondimento Michele Santoro c'è un'intervista che gli è stata fatta da Formigli cliccate su questo link in questo link trovate anche uno strepitoso Eduard Lutvak che sostiene che la guerra è bella e cliccando su quel link su sociale.network troverete le informazioni sulla carovana per la pace che è andata in Ucraina negli scorsi giorni e qui vediamo delle immagini per concludere con una nota positiva questi sono i pulmini che si sono incamminati partendo da Gorizia verso l'Ucraina un serpentone di quasi un chilometro e lo vedete qui sono tutti i pulmini della missione di pace verso l'Ucraina quando sono arrivati hanno scaricato i medicinali e alimenti aiuti di vario tipo anche carburante perché lì ormai non ce n'è più e poi dopo sono partiti hanno fatto un corteo nel centro di Leopoli eccoli qui e poi al ritorno visto che i pulmini erano stati svuotati non c'erano più gli alimenti che erano stati scaricati presso la Caritas e nei pulmini sono stati caricati alcune persone che erano fragili che erano sulle carrozzelle e vi ringrazio per l'attenzione qui potete scaricare se inquadrate questo QR code anche le slide di Carlo che avete visto prima e vi ringrazio per l'attenzione mi scuso se sono stato un po' più lungo del solito benissimo allora non vedo altre domande altri interventi ora si tratta di capire come bilanciare le decine di persone con cui abbiamo provato a ragionare stasera con i milioni di persone immersi in un altro tipo di racconto in un altro tipo di narrazione a cui si chiede appunto uno schieramento tra appunto a favore di una delle parti belligeranti mentre invece il principio di non violenza è di schierarsi vicino ai popoli contro gli eserciti che ne mettono a rischio la vita sostenere l'intervento civile in opposizione alle aggressioni militari e al riarmo se non ci sono altri contributi direi che possiamo augurare la buonanotte a tutte le persone che si sono collegate con noi stasera ricordatevi il passaparola ci si vede mercoledì prossimo c'è questo presidio culturale che noi stiamo cercando di tenere con i nostri incontri del mercoledì passate parola con i vostri contatti Carlo diciamo anche se ci sono delle proposte persone che vogliono intervenire sietevi liberi di intervenire come ha fatto Alessandro che molto gentilmente si è proposto per mettere in rete progetti condividere esperienze proporre idee se avete esperienze di associazioni o in leggi in realtà del vostro territorio che sono utili da condividere nei nostri webinar potete scriverci a info chiocciolapislin.it e soprattutto per la condivisione quotidiana di questi piccoli brandelli di conoscenza che noi poi mettiamo insieme per fare dei ragionamenti più ampi vi diamo appuntamento su sociale.network dove stiamo cercando di creare alternative non violente a un altro potere che non è quello degli eserciti è quello delle grandi piattaforme commerciali dove si monetizza il discorso d'odio dove si si tollera la la violenza verbale che ha sempre un eco anche nel mondo fisico e nella violenza reale quindi passate parola anche sull'esistenza di www.sociale.network dove stiamo creando una comunità eco-pacifista di progresso culturale e non alternativa alle aziende che fanno profitti con i contenuti generati dagli utenti buonanotte a tutti e buona resistenza culturale a tutti grazie arrivederci grazie